E siamo allo sport, parliamo del Pescara, sale la percentuale delle quote di proprietà del presidente del Pescara, appunto Daniele Sebastiani che da oggi detiene l'80%, quasi l'80% del pacchetto azionario, questo perché la CIMAV dell'ex amministratore delegato Danilo Iannascoli, dichiarata fallita lo scorso dicembre, non ha potuto temperare pro quota, circa 11%, all'ultima ricapitalizzazione, invariate le partecipazioni degli altri soci, tra cui Victor Mesa che ha mantenuto il 10%. Il campo, domenica prossima, dunque tra due giorni alle 14.30, Catanzaro Pescara, Pescara che renderà visita alla capolista in contrastata del Gironi C che ha già vinto il campionato con 5 turni di anticipo, un solo dubbio per Zeman, forse Craia al posto di Palmiero, in questo caso Mora tornerebbe titolare nel trio di metà campo completato da Rafià, più verosimile invece la conferma dell'undici, schierato dal Moemo nell'ultimo match di campionato con la Turris, dunque Pizzari tre pali, in difesa Crescenzi, Brosco, Messic e Milani a centrocampo, Rafià, Palmiero e Craia, in attacco il tridente Merola, Lescano, Colai, ancora assenti, causa infortunio, Cancellotti e Giabua. Nel Catanzaro, già promosso in Bicon, 5 turni di anticipo, tutti a disposizione del tecnico Vincenzo Vivarini, anche in questo caso assai probabile la conferma dell'undici tipo, sceso in campo con la Gelbison sul neutro della Rechi di Salerno, Sistema di gioco 3-4-2-1 in fase di possesso, 3-5-2 in fase difensiva, in realtà ci sono due dubbi, l'ex Pontisso potrebbe prendere il posto di Ghion, forse in attacco Brignola, in luogo di Sunas sulla tre quarti, perché sono confermatissimi sia Biasci che Iemmello, Biasci 16 gol, Iemmello 23, re dei bomber del girone C in casa, i calabresi hanno sempre vinto l'ultimo K.O. il 3 aprile dello scorso anno, Catanzaro-Monterosi 1-2 in campionato, l'ultimo pareggio al Ceravolo risale addirittura al 24 gennaio 2022, Catanzaro-Palermo 0-0 in assoluto col Padova 0-0 nell'andata della semifinale play-off disputata il 25 maggio dello scorso anno.